Peggy's 16 Ci serve un salvatore che possa rimediare a tutto questo Ci penserò io Gli ebrei non possono essere salvatori Ci serve un nuovo bambino Quale nuovo bambino? La scorsa settimana un nuovo bambino si è trasferito nella casa di Fuller Street Il nuovo bambino ha un potere che non conosciamo ancora E come facciamo a fidarci di lui? Muoviti nuovo bambino Combatti per il bastone Varga Troia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti